Il Comitato Portuale di Gioia Tauro ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 dell'Authority. Quale risultato dell'accertamento del consuntivo 2020, definito florido e sano dai revisori dei conti, è stato rilevato il rispetto dei limiti di spesa disposta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la riscossione di oltre il 91% dei canoni demaniali, ma anche il pagamento delle fatture con 8 giorni di anticipo rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. Nello specifico poi dell'analisi del documento è stato accertato un avanzo di amministrazione di oltre 131 milioni di euro. Si tratta di somme in parte già vincolate alla valorizzazione infrastruttuale degli scali portuali che ricadono nella propria circoscrizione. Tra queste assumono rilevanze indiscussa il bacino di carenaggio del porto di Gioia Tauro, per il quale l'ente ha destinato 40 milioni di euro, e altre infrastrutture ritenute strategiche in base a quanto definito dal Piano Operativo Triennale 2021-2023. Per l'illustrazione inoltre della rendicontazione, l'ammontare delle entrate accertate nel 2020 ammonta ad oltre 25 milioni di euro a fronte dei 14 destinati alle uscite. Sono state complessivamente riscosse oltre 24 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati hanno avuto una consistenza di 14 milioni e 8. L'autorità portuale di Gioia Tauro precisa che l'oculata gestione economica dell'ente è stata, come ormai da diversi anni, finalizzata anche nel 2020 all'abbattimento delle tasse di ancoraggio, rimborsate alle compagnie di navigazione, che attraccano negli scali portuali di competenze dell'ente al fine di sostenere la competitività dei porti.